Sta squadra qua rende le cose ancora più semplici di quello che sono. Sta squadra qua rende le cose ancora più semplici di quello che sono. Signore me, è una bellezza vederli giocare, è una bellezza. In queste partite solitamente tendevamo a perdere quella cattiveria. Perché sapete, no? Sette punti di vantaggio dalla seconda con la Champions alle porte. La testa un po' vagheggia. Non l'Inter di Simone Inzaghi 2023-2024. La testa di questi ragazzi invece è saldissima. Forse hanno giocato sta partita qua con ancora più fame. Magari sapendo appunto di un avversario in difficoltà, con un passo e dopo la partita di stasera forse direi anche con due passi. Perché se giocano come stasera al netto dell'Inter non hanno nessuna esperienza, ahimè. Ma dicevo, forse proprio per questi motivi qua l'Inter ha dato ancora di più. Perché questi ragazzi non si accontentano. Cioè non si accontentano del gol. Ne vogliono sempre di più. Sono famelici. Un'Inter famelica. All'Inter di Simone Inzaghi non è mai mancato il gioco. Forse alcune volte sono mancate varianti. Però il gioco, no? Non è mai mancato. Mancava un po', ripeto, no? La concentrazione, l'attenzione, nelle difficoltà, l'essere uniti. Mancava un po' la maturità di cui abbiamo sempre tanto parlato. L'Inter è un rullo compressore. L'Inter da gennaio non ha sbagliato una partita. Sono otto partite, otto vittorie. L'Inter di gennaio, otto partite, otto vittorie. Ragazzi, un rullo compressore. E ribadisco una squadra che ha avuto anche, prima di sto periodo qua, un po' tra virgolette di flessione, credo soprattutto fisica, ma è ripartita con una marcia ancora più elevata. Signore mei, buonasera. Anzitutto, forse non vi ho nemmeno salutato, sono partito a razzo, perdonatemi, un grande abbraccio a tutti voi, ma rare volte ho visto Inter più forti. Ho visto Inter più forti. Ma un Inter giocare così bene, forse mai, forse mai, forse mai. Ragazzi, è una roba incredibile, ripeto. Quello che ha perso più di tutto è il fatto che questi ragazzi non staccano, non staccano la spina, non mollano nulla. Ribadisco, oggi l'Inter ha 10 punti di vantaggio. Si è costruito un margine tale, ma resta lì focalizzato. Dopo 20 minuti questa partita poteva stare sul 5-0. La Serenitana non si è mai affacciata. Ha avuto forse un solo tiro in tutta la partita e non in po' la partita o Sommer non ha toccato palla. Cioè, ribadisco con un'attenzione spasmodica ai dettagli. E qua si è visto l'upgrade totale che ha fatto Inzami. In questo si è visto, nella gestione di questi dettagli, nella gestione di queste partite, dove se vinci, ribadisco, fai il tuo. Ed erano queste partite che l'Inter puntualmente all'anno scorso non vinceva. Invece adesso non solo vinci, ma vuoi anche, ribadisco, vuoi anche fare il gol in più. Lo fai per te, ma lo vuoi fare anche per i compagni. Contentissimo, per esempio, che nel finale abbia segnato anche Arnautic. Finalmente, no, un gol che magari gli darà energie fisico-mentali. E quindi è una squadra che va, che funziona. Ma le stesse mosse di Inzaghi, oggi cambia praticamente soltanto i quinti. Dunfris e Carlos Augusto. E che quinti? Perché potrebbero giocare titolari in qualsiasi formazione della Serie A. Carlos Augusto e Dunfris in queste condizioni possono giocare ovunque. Anzi, vi dico che Dunfris, per quanto mi riguarda, credo che sia qualcosa legato col rinnovo. Altrimenti Dunfris, il posticino da titolare, tra virgolette non l'avrebbe perso. Perché si è parlato di infortuni o altro, ma credo sia una questione di rinnovo. Non lo so. Fatto sa che, giocato oggi tutta la partita, sarà panchinato con l'Atletico. Ma io non Dunfris così, lo voglio vedere, lo voglio inserire. Perché comunque è un giocatore di spinto, di grande spinto. Attenzione, abbiamo visto finalmente anche Buchanan, che poi è uno di quelli che sa saltare l'uomo. Quindi aggiunge anche delle caratteristiche. E speriamo di vederlo sempre di più. Poi per tutti gli altri, il gol Lautaro, il gol Turam, Pali, il giocato, ripeto, con una fame incredibile. È inutile ripetere e ribadire gli stessi concetti. Però, veramente. È molto, molto, molto bello assistere a quello che stanno facendo questi ragazzi. I risultati sono incredibili, ragazzi. L'Inter sta facendo, ragazzi, qualcosa che... Quello che l'anno scorso faceva il Napoli, lo sta facendo tranquillamente l'Inter. Cioè, non sta sbagliando nulla. Non risponde corpo su corpo. Sta sbranando. Sta sbranando tutti. Avendo forse l'Inter, rispetto alla Napoli dell'anno scorso, l'Inter quest'anno aveva una Juve che ha cercato in tutti i modi di tallonare. Quindi, secondo me, aveva anche più pressione sotto alcuni aspetti. Anche perché avere la Juve che ti sta colfiato sul collo non è mai una bella cosa. Eppure l'Inter mentalizzata. Mentalizzata. E la vittoria di stasera è un'ulteriore conferma. Non perché vinci contro la Salernitana in classifica, ma per come lo fai. Con la convinzione, con la fame. Cioè, una partita del genere non la sottovaluti minimamente. È qui che c'è lo step in più. Ed è qui che vedo una squadra clamorosa. Veramente clamorosa. Ripeto, ma non per la partita in sé. Per il ruolino di ma. Per tutto quello che sta facendo in questa stagione. Per quello che sta facendo da gennaio. Solo vittorie. Incredibile. Veramente. Incredibile. Parentes sulla Salernitana. La Salernitana. Merit ne ho dati. E ce ne stanno tanti all'Inter. All'Inter a San Siro difficilissima, dura. Però la Salernitana che ho visto stasera. Male, male. Cioè, male, male, male. Cioè, la Salernitana di Inzaghi. Tutto si può dire. Ma è stata sempre combattiva. Sempre. Anche nelle partite più buie. Più disastrose. È stata sempre combattiva. La squadra di stasera. È squadra che non aveva praticamente nulla. Non c'è nulla di cui puoi salvare. Non c'è nulla su cui puoi costruire. Non so se è una questione di guida a te. Non so se è una questione di qualità individuale. La squadra che ho visto stasera. Non ha veramente nessuna possibilità di rimanere in Serie A. Ma non so. Non perché la classifica è anche quella. È abbastanza eclatante. È negativo. Ma proprio perché non c'era nulla. Veramente nulla. E mi dispiace. Franchamente mi dispiace soprattutto. Perché da meridionale. La serenità. Ci tengo. Ragazzi. Fatemi sapere. Quello. Che ne pensate voi. Di questo cammino. Di questa partita. Di tutto quello che vi pare. E di quello che potrà mostrare anche in Europa l'Inter. Cosa ne pensate voi. Io. Non voglio parlare. Adesso mi voglio poterla vittoria di stasera. Fatemi sapere. Un grande abbraccio. Daneschi. Un grande abbraccio. 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 Grazie.